La caccia all'affare si è ufficialmente aperta oggi, ai nostri di partenza infatti su tutto il territorio nazionale i saldi invernali del 2017, dopo il via anticipato in Basilicata e Sicilia il 2 gennaio e in Valle d'Aosta il 3. Anche quest'anno i saldi di fine stagione tuttavia faranno registrare un segno negativo, lo prevede il Codacons che ha realizzato una prima indagine sulla propensione delle famiglie alla spesa. In media, secondo le stime dell'Ufficio Studi di ConfCommercio, ogni famiglia spenderà 344 euro per l'acquisto di capi di abbigliamento, calzature e accessori per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. Una famiglia su due è pronta a fare acquisti a prezzi scontati, la stima euro più euro meno e insomma che gli italiani spenderanno mediamente come nell'anno precedente. Le vendite di fine stagione saranno sempre una straordinaria opportunità per i consumatori, ma per i commercianti, secondo le previsioni, non saranno sufficienti a colmare un gap di consumi fortemente condizionato. L'Unione dei Consumatori aspetta sconti record, con una media del meno 23,5% nell'abbigliamento, ma in alcune delle grandi catene si aspettano anche sconti dal 30 al 70%. Secondo l'Associazione dei Commercianti, inoltre, i saldi invernali possono valere quasi 5 miliardi di acquisti per Feder Consumatori, però non ci saranno assalti a negozi. Secondo le stime dell'Organizzazione dei Consumatori, infatti, solo il 39% delle famiglie farà acquisti e con forti differenze tra nord e centro-sud.